Sono Emanuela Stucchi Prinetti, sono proprietaria di Badia Coltibuono e da tutta la vita io me ne occupo. Il nostro vino è unico tanto per una storia millenaria, questo vino che ha veramente una storia che risale all'anno 1000 e poi perché anche comunque noi attualmente lo stiamo facendo in rispetto di quelle che sono state questa lunghissima tradizione che vuol dire rispetto di un gusto che si è sviluppato per lungo molti secoli e non vuol dire correre dietro all'ultima novità alla moda. La sfida più significativa è il riconoscimento del ruolo delle donne in questo mondo. Quando sono partita io eravamo veramente pochissime, ho avuto anche l'onore di essere presidente del Consorzio del Chianti Classico e l'ho accettata volentieri come sfida per rendermi conto di quanta sia grande la lotta che come donne dobbiamo ancora fare.